Domenica 10 gennaio 2016 a Palestrina c'è un evento importantissimo. Che cosa c'è l'eccellenza Monsignor Sigalini? Abbiamo nel pomeriggio alle ore 17 la presenza del Cardinale José Saraiva Martins, che fu prefetto della Congregazione dei Santi, che viene a celebrare l'Eucaristia in occasione del nono centenario della consacrazione della cripta della nostra Basilica. Questa cripta per noi è importante perché la sua consacrazione precedente è la consacrazione della cattedrale e perché conteneva meglio le reliquie di alcuni Santi molto importanti per la nostra vita cristiana e civile, soprattutto la reliquia del nostro santo martire Sant'Agapito. Ecco, una cosa importante. Possiamo parlare un po' di questa storia? Perché il nono centenario della, innanzitutto, consacrazione? Perché un tempo, che cosa succedeva con l'Ecripte? Com'era la procedura, diciamo, di consacrazione? La procedura era evidentemente sempre quella di costruire bene tutta la cattedrale e poi fare una grande funzione solenne di dedicazione, di consacrazione del Tempio sotto il nome di un santo, evidentemente sempre al Signore e all'Altissimo, Deo Optimo e Massimo, D-O-M, cioè su tutte le chiese, però sotto il nome di qualche santo. In genere, nell'antichità, le chiese sorgevano sulle tombe dei martiri. Allora, le tombe dei martiri erano già precedenti, quindi ecco che qui hanno costruito prima la cripta e poi sulla cripta veniva costruita la cattedrale che verrà consacrata l'anno dopo. Quindi noi abbiamo un nono centenario della cripta e poi questo ci aprirà al nono centenario della basilica. Ecco, ricordiamo che quindi questo evento, possiamo capire un po' dal computer, proviamo dal suo computer un attimo nella scheda, qual è questo evento, allora, mi pare, eccolo. Allora, che cos'è questa vista, Castel San Pietro Romano? Questa è la vista di un grande palazzo, cioè sono i resti di un palazzo che fu una fortezza molto nota nell'antichità e che ebbe come prigionieri dei grandi personaggi, tra i quali Coradino di Svevia, per di ne uno noto alla storia, Jacopone da Todi, ma soprattutto un santo, vescovo, che fu presente l'anno dopo della cripta con il Papa Pasquale II alla dedicazione della cattedrale. Questo vescovo è un vescovo santo, molto venerato, ecco qui un'altra bella visione di questa prigione, di quello che resta, diciamo, di quel castello molto noto. Ah, un attimo, ho visto una foto del cardinale... Questo è il cardinale Salaiva che verrà da noi troppo domenica. Scusi, eccellenza, vedo che è nato ieri? Sì, è nato il 6 di gennaio. Certo, certamente. Possiamo rifare gli auguri, dato che siamo soltanto al giorno dopo, lo richiamiamo, vediamo se c'è. Sì, proviamo, provo io, eventualmente, se mi autorizza posso utilizzare... Allora, un attimo, vediamo, proviamo, allora, un attimo... Speriamo che... Adesso non gli abbiamo... Facciamo una faccia a lei, io non mi... Spero io, sì. Speriamo di... Allora, provi lei, provi lei, questo era il numero? Sì. Vada, lo provo con il mio zetto. Vediamo. Dal suo diretto funziona meglio, sicuramente. Allora, una cosa importante, quindi, che voglio ricordare, che... Quindi, domenica 10 gennaio, alle ore 17, con la presenza del cardinal Iosè Saraiva Martins, a Palestrina ci sarà la celebrazione eucaristica del nono centenario della consacrazione della cripta della cattedrale dedicata a Santa Gabito. Allora, una cosa, eccellenza, mentre sta parlando, ma c'è anche un'altra cosa, c'è un'ordinazione che coincide, che sarà... Un attimo, parliamo dell'ordinazione che sarà colui che... Prego. Sì, dunque, il diacono di questa celebrazione è un giovane della nostra diocesi che verrà ordinato diacono proprio la mattina a San Bito. Pronto, vediamo in diretta, come vedete. No, purtroppo non risponde. Niente, dovevamo... Thank you. Sì, va bene. Volevamo fare gli auguri al cardinale che è ieri, ovviamente. Allora, quindi concludiamo. Ma questo centenario, questo nono centenario, si conclude qui? No, il centenario, giustamente, qui inizia e siamo evidentemente nel 1116, più 900 anni fa, 2016, si benedice la cripta, si consacra la cripta. Poi, la cosa che terminerà e sarà anche più solenne, sarà la consacrazione, il nono centenario della consacrazione della basilica, che fu fatta da Pasquale II, il Papa, e l'anno esattamente dopo, però siamo nel 1117, quindi nel 2017 saranno 900 anni che è consacrata la basilica di Palestrina. Ma vorrei tornare alla cripta perché c'è un fatto molto interessante che abbiamo scoperto giustamente 5-6 mesi fa. C'era, e c'è ancora tuttora, su una colonna della cattedrale una scritta, una lapide, che ricorda che nella cripta ci stavano tre corpi di santi, Agapito, Gordiano e Abondio. Noi di Agapito sappiamo tutto, di Gordiano e Abondio non eravamo molto al corrente, o meglio, ci siamo informati, si sa che sono due martiri, eccetera, eccetera. Ma abbiamo trovato i nostri ragazzi, i nostri esperti, appassionati della basilica, abbiamo trovato il sarcofago che conteneva tre persone. Era un sarcofago diviso in tre parti, quindi aveva due suddivisioni, una, due, tre, una in centro, una in parte, e ciascuna di queste suddivisioni aveva un foro che nell'antichità era dedicato a poter permettere ai pellegrini attraverso lini, attraverso delle dei vestiti anche, di farli entrare dentro per toccare le ossa dei santi e così costruirsi una sorta di reliquia per contatto. Era una tradizione molto sentita allora, ma anche oggi, per esempio, chi va in qualche santuario, così, prende dei fazzoletti, tocca la tomba, poi li porta a casa, li tiene come una sorta di ricordo di una specie di vicinanza fisica alla figura del santo, perché questo anticamente è sempre stato vero. Per esempio, noi abbiamo scoperto la verità della tomba di Santa Capito perché abbiamo trovato attorno a questa tomba tante dediche di gente che diceva il nome del morto Apud Agapitum presso Agapito cioè la gente voleva essere sepolta presso il santo quindi noi vedendo tutte queste tombe siamo riusciti ad andare al centro e a trovare veramente le ossa di Santa Capito. Grazie io penso che possiamo concludere qui se mi è consentita un'ultima riflessione come vive lei l'utilizzo della tecnologia come stiamo utilizzando perché noi grazie all'iCode che è una cosa che possiamo vedere cerchiamo di andare nella sua abbiamo avuto un piccolo problemino con Londra allora intanto parli lei che cosa è successo perché ma è successo intanto l'iCode è questo questo simbolo questo disegno che qui appare che ha tutti i suoi linguaggi cifrati che è capace di mettere in comunicazione se viene inquadrato da un cellulare di mettere in comunicazione la persona che ha il cellulare con una serie di trasmissioni una serie di elementi che noi mettiamo a disposizione attraverso i nostri computer per esempio attualmente c'è una riflessione ogni mattina sul Vangelo del giorno penso che questo che stiamo facendo adesso potrebbe essere un primo video che possiamo mettere a contatto di tutti solo che stanotte abbiamo avuto un po' di problemi perché abbiamo fatto in maniera molto prudente la registrazione del pensiero di quest'oggi ieri sera stanotte ma a un certo punto non è non è andato per problemi tecnici di connessione con Londra ci siamo sentiti una barca di telefonate non io grazie a Dio perché io stavo a dormire ma c'era scritto connexion failed errore di accesso eccetera eccetera working in progress l'abbiamo messo stamattina facendo vedere che stiamo tentando di riparare questo errore però altrimenti qui ci sarebbe stato una sorta di tasto da schiacciare e quando questo tasto veniva schiacciato si veniva messo in contatto con il file che faceva sentire la nostra riflessioncina di due minuti tre minuti al massimo questo è un esempio poi grazie all'operatore che è qui presente che si chiama Paolo abbiamo realizzato la diretta streaming provi a cliccare su quello vediamo un po' se ci riusciamo e guardate che cosa succede questo è un evento eccezionale vediamo se abbiamo il volume un attimo mettiamo un po' di audio no va bene vediamo piano piano ecco questo è l'esempio chiudiamo la pubblicità e questa è la voce del nostro operatore che è stato tempestivo perché mentre io migrecavo da Santa Lucia correvo venivo su in due insomma proviamo a mandare avanti gentilmente più o più avanti vediamo no quello è il volume più avanti aspetti posso ecco questa è la voce del nostro Paolo che è stato brevissimo allora scusate allora andiamo per esempio c'è stata la telefonata al telefono Nuccio Fava che lei non ha visto guardi qui era nel momento in cui lei stava celebrando vede facevamo lo zoom e dalla facevamo un po' di cose vede con la telecamera mobile eccetera andiamo nella parte finale ancora quindi Nuccio Fava che interviene poi proprio avanti se va più avanti ecco questa è la sua voce che dava dei messaggi vediamo aspettiamo perché ecco un attimo solo questa è la parte finale l'uscita ancora niente vediamo ancora più avanti poco più avanti ecco qui ho ricordato tutti gli appuntamenti che ci sono e poi guardate del mondo che ci sono e poi guardate Grazie a tutti.